ecco la l'hai visto? guarda 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 è una nave dai che ce l'hai tranquillo ed è una nave non è entrata è gigantesco si è qua è over bitch mi sto citando il fondo è il trovione che bestia a mosca voleva scocodrillare mamma mia bello questo bello vero un guerriero si a che mi sembrano belle dai arriva lì ma mettici un segnetto dove arriva semplicemente ma che roba dia ragazzo più grosso di me ragazzi a mosca un pescione un metro e una banana un pescione magnifico ultimo giorno nella finlandia preso a mosca un regalo un regalo inaspettato quasi inaspettato e si in abissa ahahah a un regalo un regalo quando i resti un regalo non lo so tutta un pet Grazie a tutti